ok cari amici vi presento un effetto mio di invenzione genesi si fa con due masse di carte e dati normalissimi guardate attentamente carte tutti chiaramente normale regolari mescolate non ci interessa niente tutto mescolato non ci interessa nessun ordine delle carte questo è importante perché poi pensano eh non è vero tutto mescolato stessa cosa qui detto questo ora come funziona il tutto due dati esattamente due volte faremo la somma tipo tutto la prima volta 5 6 fa 11 e poi più 4 15 giusto in tutto che anche via 3 più 12 15 ok 15 adesso ora cosa succede che io tolgo ci sono quindicesima carte che non sono segnate in mente se tutte carte non ma questo è importante che non c'è nessun ordine quello si vede bene tutto chiaro ora stare attenti a un'idea nessun ordine niente tutte mescolate ora se queste due carte fossero uguali sarebbe incredibile dall'estima adesso ci sono però non c'ho la copia esatta non c'è la copia esatta nel segnale la copia esatto è almeno credito che non c'è la copia esatta nel segnale la copia esatta